Firenze Smart Per lavori 2 km di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie a tutti!